Francesca, non stai più ballando ad amici, non sei più per ora nel corpo di ballo dei professionisti, cosa ti lega però a questa esperienza? Allora Silvia, non è stata per niente una decisione semplice quella che ho preso, però l'ho presa perché l'ho sentito dentro di me che era arrivato il momento di fermarmi un attimo e io ho fatto tanti anni là dentro, ho fatto nove anni pieni, stupendi, bellissimi, dove ringrazio tutti lì dentro, tutti, perché sono stati tutti fondamentali, tutti bravi con me sempre, mi sono sentita sempre a casa, in famiglia e mi mancano da morire ancora ad oggi, li guardo, li seguo ovviamente, mi manca tutto, però mi sono ascoltata e ho detto forse è arrivato il momento di cambiare, non lo so se ho fatto bene o male, però io sono una persona così, sono una persona che quando sento una cosa la segue e basta, ecco una cosa che mi sto godendo sicuramente di più una volta presa questa decisione è sicuramente che giasmini. Grazie.